La 14esima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. L'avvocato dell'anno Real Estate, è questo il premio che stiamo per assegnare e il premio va a Avvocato Stefania Pezzini, studio Genesis Avvocati. Un bello applauso, eccola scintillante e brillante, eccola lì, per essere alla guida per lo studio Genesis Avvocati del Dipartimento di Real Estate, distinguendosi per la professionalità, l'ampia competenza e il lavoro di team per il focus sulla clientela e l'offerta di soluzioni sempre ad hoc. Complimenti all'Avvocato Stefania Pezzini. Diamo il nostro benvenuto all'Avvocato Stefania Pezzini, pluripremiata dalle Fonti Award per la sua posizione di eccellenza nel settore Real Estate. L'Avvocato Pezzini è socia dello studio Genesis, che è specializzato nella consulenza rivolta al mondo imprenditoriale e finanziario ed opera in Italia e all'estero. Avvocato, come vede il futuro del Real Estate? Io credo che oggi tra i temi maggiormente rilevanti per tutti gli operatori del settore immobiliare sia quello della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico. L'interesse sempre maggiore che si sta rivolgendo verso gli edifici ecocompatibili non è infatti più soltanto una questione esclusivamente etica ma anche economica. Gli edifici con queste caratteristiche sono infatti strumenti che consentono di garantire da un lato una considerevole riduzione dei costi operativi a fronte chiaramente di un maggiore efficientamento energetico. Ecco, io credo che in questo contesto un interesse particolare vada rivolto all'energia solare, non solo per l'ampio spazio che gli viene riservato dalla direttiva Casegrin che ci occuperà da qui ai prossimi anni ma anche per le interessanti interazioni che si possono venire a creare tra l'energia solare e la produzione agricola. L'agrivoltaico infatti che coniuga perfettamente questi due elementi si sta a tutti gli effetti affacciando come un efficace strumento per affrontare le sfide sia ambientali che alimentari attualmente. Qual è il contesto normativo in cui si inserisce questa nuova prassi? Dopo un periodo di grande incertezza sulla disciplina normativa applicabile all'agrivoltaico. Il 17 maggio è entrato in vigore il decreto agricoltura che proprio con l'obiettivo di creare un equilibrio tra la produzione di energia solare e la produzione agricola ha sì da un lato vietato l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici sui terreni agricoli ma dall'altro lato ha anche espressamente previsto che questa restrizione non operi per gli impianti agrivoltaici cosiddetti avanzati cioè quegli impianti che sfruttano l'utilizzo di pannelli sopraelevati rispetto al terreno e quindi non implicano consumo di suolo quindi garantendo assolutamente da un lato il raggiungimento dell'obiettivo di transizione energetica e dall'altro garantisce il rispetto della vitalità delle nostre terre. Tra l'altro per questo tipo di impianti il PNRR ha stanziato oltre un miliardo di euro con una previsione di efficienza energetica agrivoltaica per il 2026 di oltre un gigawatt. Sempre in ambito normativo ricordiamo che il ministero dell'agricoltura ha approvato le regole operative del GSE che disciplinano proprio le modalità di accesso per questo tipo di impianti ai sistemi di incentivi che sono per gli impianti agrivoltaici avanzati di due tipologie un contributo in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile e una tariffa incentivante per la nuova energia immessa nel sistema. Da ultimo a giugno con due anni di ritardo rispetto alle previsioni è stato approvato il decreto aree idonee che definisce proprio i criteri di individuazione all'interno del territorio nazionale delle aree che siano idonee ad ospitare impianti e energie rinnovabili il quale delega alle regioni assegnando un termine di 180 giorni il compito proprio di individuare all'interno di ciascun territorio quali siano queste aree idonee o non idonee ad ospitare questa tipologia di impianti. Quindi ci aspettiamo per la fine dell'anno di avere maggiore chiarezza anche da questo punto di vista. Avvocato possiamo dire che il fotovoltaico implichi delle sfide ma offra anche delle opportunità? Senz'altro le sfide come dicevamo prima sono molte in quanto occorre assicurare che questa tipologia di impianti non bada a detrimento della produzione agricola quindi occorrerà adottare politiche che incentivino e promuovano quella tipologia di impianti rispettosa delle specificità del territorio. Dall'altro lato ritengo anche che l'agrivoltaico sia un'opportunità per l'Italia proprio perché consente da un lato appunto l'avvicinamento, il raggiungimento degli obiettivi energetici a cui stiamo aspirando e dall'altro lato potrebbe essere un volano interessante per un'economia agricola più resiliente. Come anticipato l'avvocato Stefania Pezzini non è un volto nuovo ai Le Fonti e Worts. Cosa rappresenta per lei questo riconoscimento? Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore riconoscimento da parte della vostra casa editrice perché il 2024 è stato un anno molto intenso per il nostro dipartimento di real estate. Abbiamo completato alcune importanti operazioni su Milano che si conferma a tutti gli effetti essere un mercato particolarmente dinamico e attrattivo soprattutto per gli investitori stranieri. Grazie. Grazie. Grazie.